Caos all'ufficio Anagraf, editore del Greco. A causa di un personale ridotto, l'ufficio comunale, che si occupa del rilascio di documenti d'identità ed altri indispensabili servizi per i cittadini, funziona a singhiozzo da mesi. La sede, all'interno della struttura dei Molini, in via Calastro, è ufficialmente chiusa per metà settimana. Il cartello fuori La Porta evidenzia che l'ufficio è aperto solo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Un lasso di tempo esiguo rispetto al bacino di utenza torrese, soprattutto considerato che il rilascio di documenti essenziali dovrebbe essere di rapido e semplice ottenimento. Un rallentamento che non può far altro che causare file nelle poche ore di attività. Data l'emergenza pandemica, per non creare assembramenti è stato aggiunto un nuovo ostacolo. Prima di venire ricevuti bisogna ottenere una prenotazione telefonica. Il problema è che in queste telefonate viene fornito un appuntamento dopo mesi. Ho smarrito i documenti, ho fatto la denuncia ai carabinieri, mi hanno dato il foglio per andare in comune, per andare all'asolo. All'asolo ho fatto l'email, ok, per la destra sanitaria. Qua ho telefonato dopo una buona un quarto d'ora a telefono. Mi hanno detto di prenotarmi per il mese di aprile e se a me mi chiamano per andare a fare il covid, che faccio? Io non ci vado, perché signore. Poi mi hanno detto pure che è quella che fa la cattività. Oggi non c'è, sono d'accordo, ma domani ci sta. Le hanno risposto? Sì, mi ha detto che non ci può fare niente perché lui prende le prenotazioni. Come se non bastasse, alcuni cittadini denunciano la chiusura dell'ufficio anche nei giorni e negli orari in cui dovrebbe essere aperto. Il problema, secondo quanto esposto anche da Luca Alini, di Fratelli d'Italia, è anche che i pochi dipendenti chiedono i permessi e malattie, bloccando di fatto l'ufficio. Così, anche nei tre giorni di apertura, i torresi che difficoltosamente hanno ottenuto una prenotazione rischiano di trovare le porte sbarrate.